belle 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 buongiorno benvenuti buongiorno a lunedì da pinoccio Mimmo sei venuto con la moto? no no a piedi a piedi sono gara a piedi e perché c'è il casco? è perché ho paura di vanno a lavorare e ho ancora incontro un poliziotto sai che? ah e qui ti copri? allora mi proteggo quello notizie di oggi è bella almeno? si oggi è bella dai allora qual è? il processo per la casa di scaiola è andato prescritto oh senza punto da pustavoli? ah usa pustavoli auguri 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 una bella cosa nuova auguri la casa è una cosa importante mi hai spiegato una cosa? che è successo? che altro? l'uomo è andato sulla luna beh hanno fatto i treni che vanno sotto l'altra e ma che vuoi da noi? e com'è che del rio ha detto che non può fare investimenti al sud perché ci sono le rocce? ma le rocce al sud per fare le stesse sono tante, tanto le rocce si vede si vede caso Cocchi in appello tutti assolti medici, poliziotti, tutto assolti che ha detto il giudice Fabio che si è appellato a che coso? al ragionevole dubbio oh giudice possiamo avere pure noi il ragionevole dubbio che si telechina di merd piri di pupu in italiano? in italiano grazie a tutti